Oggi siamo in Toscana e stiamo visitando questa meravigliosa quercia che è chiamata la quercia delle streghe o la quercia di Pinocchio. Questa pianta ha tra i 400 e i 600 anni. La ramificazione è incredibile con questi grossi rami bassi che portano il peso della chioma e il tronco è grosso imponente in cima di questa zona che la pianta si è creata per preservare la sua integrità nel tempo. Il strato è incredibile. Grazie a tutti.